E anche alla vigilia di Natale sono tantissime le persone in fila davanti alle farmacie per effettuare dei tamponi di controllo anti-Covid-19. Importante tutelarsi prima di incontrare familiari e amici. Ci vediamo con i familiari, per cui è indispensabile, sono persone anziane, almeno ci tuteliamo e cerchiamo di evitare certamente danni. Io ho fatto già la terza tosse, quindi mi sento già abbastanza sicuro, però è preferibile farle un tampone che non è vaccinato. Importantissimo, mio marito l'ha fatto in molecolare, perché poi per incontrare la mamma era stato con un po' di tosse. Dobbiamo salvaguardarci l'uno con l'altro, solo così possiamo uscirne fuori. È importante, assolutamente, lo consiglio a tutti, fate il tampone. È la prima volta che ci sono più persone in farmacia che in un supermercato, quindi è importante fare il tampone. File dalle prime ore del mattino, come sta andando? Quante persone si sottopongono al tampone, proprio alla vigilia di Natale? Io penso di aver perso il conto, oltre le 40 d'ora con 4 positivi, credo 4-5, quindi una discreta percentuale. Hanno molta paura ormai, perché c'è un'esplosione, il vaccino protegge dalle eventuali complicazioni, ma non ti immunizza dalla malattia. I bambini positivi ad oggi non ne ho trovati e ne ho fatti tanti. Ho trovato qualche importato, qualcuno che scendeva a casa per le feste, positivo, sì, già ieri. È difficile dirlo, perché poi ti trovi davanti alle vicende umane che sono sempre tristi, sempre a spezza cuore.